Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di Garmin Outdoor Lab. L'argomento di oggi, rilevamento attività cardiaca. Per vivere al meglio la montagna è necessario avere un buono stato di forma. Una delle caratteristiche principali che i prodotti Garmin offrono è proprio quello del rilevamento dell'attività cardiaca. Esistono due modalità di rilevare l'attività cardiaca. Una ha sensori ottici sul porso per una modalità di uso quotidiano. E una invece ha tradizionale fascia cardiaca per delle attività più intense come ad esempio lo sci di fondo. La buona notizia è che tutti i prodotti con rilevamento cardio sul porso sono compatibili anche con la fascia cardio.